ciao ragazzi e bentornati su questo nuovo video dedicato ad after effects oggi vediamo come realizzare una scena di compositing catastrofica partendo da una normalissima foto e video 2d dove mi sono ispirato al film moonfall dove la gravità lunare nel nostro caso distrugge un palazzo e attira verso di sé i detriti questo video servirà più che altro per capire alcune tecniche interessanti che andremo a generare con l'effetto esplosione nativo di after effects per cui iniziamo una volta all'interno di after inserisco questa immagine che ho preso gratuitamente su pexels la adatto alla composizione e una volta riposizionata la pre compongo per dargli una dimensione full hd e rinomino il tutto palazzo 1 ora prendo la penna e ritaglio la sagoma del palazzo principale così da escludere il cielo che andremo a sostituire poi alla fine premiamo poi due volte m per andare ad aprire le proprietà maschera e andiamo ad applicare una sfumatura di circa 10 pixel ora inseriamo l'effetto esplosione che nel software in inglese trovate come shutter dove vi ricordo che nel mio corso di after effects c'è una lezione molto approfondita su questo effetto per cui con il livello selezionato andiamo su effetto simulazione e clicco esplosione impostiamo la modalità con rendering nella forma impostiamo il pattern vetro e iniziamo con 80 ripetizioni impostiamo una direzione obliqua direi attorno più 39 l'origine della forza che lo portiamo a 1080 per 420 e una profondità di estrusione a 0,15 entriamo adesso nel gruppo forza 1 e diamo una posizione di 960 per 310 una profondità a 0,10 il raggio che a tempo 0 lo portiamo a valore 0 e accendiamo l'orologio poi a 15 secondi diamo un valore di 0,40 e come intensità impostiamo 1 ora entriamo nella fisica perché vogliamo che questi frammenti vengono attratti verso l'alto impostiamo la velocità di rotazione a 0,60 una casualità a 0,39 una viscosità a 0,36 una varianza di massa al 46 per cento e una gravità a 1,10 con una direzione attorno a più 46 bene ora quello che abbiamo ottenuto è che la frantumazione avviene sull'immagine ritagliata facendo lievitare i pezzi verso l'alto e la loro forma è un po' troppo squadrettata mentre vorrei qualcosa di più organico come se i pezzi venissero anche un po' fusi per cui creiamo una mappa personalizzata per dare un aspetto più particolare a questi frammenti inseriamo quindi un tinta unita che rinominiamo mappa effetto sulla quale applichiamo il disturbo frattale lo portiamo in modalità dinamica e come disturbo impostiamo quello di tipo blocco adesso aggiungiamo l'effetto colorama entriamo nel ciclo output stringiamo un pochino la gamma dei colori predefiniti dopodiché andiamo ad aggiungere un nuovo gradiente di colore nero inseriamo ancora un altro effetto come lo spostamento turbolenza diamo una quantità attorno ai 70 una dimensione a 8 e una complessità di 2,5 così da avere generato una trama di questi cubetti non più lineare ma con dettagli curvilinei ora spegniamo l'occhiolino torniamo sul livello principale e dalla finestra del controllo effetti ci portiamo all'interno del gruppo forma e dal menu impostiamo personale dopodiché associamo la nostra mappa in modalità effetti e maschere e ora avremo una frantumazione molto più particolare che possiamo migliorare per renderla più organica attivando la casella porzioni bianche fisse portiamo le ripetizioni al minimo che è 1 e portiamo anche la profondità di estrusione a 0,05 e ora avremo generato dei frammenti più organici del palazzo che si staccano ma anche una sorta di particelle simile alla sabbia tuttavia entrando sulla mappa usata per dare un aspetto differente e nello specifico nel disturbo frattale se entriamo all'interno delle proprietà di trasformazione possiamo dare un aspetto ancora più particolare portando magari un contrasto al 110 120 per cento una rotazione a più 12 e una scala 75 provate anche altre combinazioni per avere risultati diversi risultati che comunque andranno generare sempre questa forma circolare molto netta dell'esplosione data dall'effetto a meno che non decidiamo di usare una mappa sfumatura per guidare la frantumazione attraverso un gradiente quindi con dei valori di luminanza duplichiamo quindi la mappa effetto con il control d che rinominiamo mappa sfumatura poi elimino lo spostamento turbolenza e il colorama infine ripristino il disturbo frattale ai valori predefiniti ora torno sulla composizione con l'effetto esplosione entro nel gruppo sfumatura e associo la nuova mappa in modalità effetti e maschere e porto la soglia attorno al 43 per cento vediamo un'anteprima ok proseguiamo perché ora per rallentare in maniera cinematografica questa scena senza fare inchiodare il programma perché questo effetto richiede un bel calcolo al pc dobbiamo esportarlo come video ma come prima cosa richiamo le impostazioni della precomposizione con il control k dove impostiamo 120 fotogrammi al secondo ora andiamo su file esporta e qui il formato h264 non ci permette di avere il canale alfa per cui impostiamo la modalità avi o quick time e nelle modalità impostiamo rgb più alfa a questo punto salviamo il percorso dove preferiamo e lanciamo il rendering che con 120 fps sarà anche piuttosto lungo ma una volta terminato creiamo una nuova composizione che rinominiamo frantumazione e dove reimposto i nostri frame a 30 e imposto anche una durata di 40 secondi e diamo ok ora importiamo la clip video appena creata e la inseriamo e avremo la nostra animazione con il canale alfa ora la possiamo rallentare senza problemi di sfarfallì o crash del programma per cui apriamo lo strumento dilata e portiamo il valore al 250 per cento e attivo la fusione fotogrammi adesso aggiungo un video stock che ho preso dal web con questa luna e cielo con un aspetto abbastanza apocalittico e gli applico un effetto curve dove porto il canale del blu verso le luci e quello del rosso un po verso le ombre ancora una sfocatura lente fotocamera con un valore a 2 a questo punto essendo che abbiamo dilatato più del doppio la clip video dovremo spostarla per far corrispondere l'animazione della frantumazione al movimento della clip video della luna e trovato il punto più adatto alle nostre preferenze aggiungiamo un livello di regolazione su cui applichiamo l'effetto tinta che porto con una quantità al 50 per cento e in questo modo abbiamo ribilanciato un po i bianchi e neri ora dobbiamo fare in modo che i pezzi che saltano via non lasciano un buco netto che fa vedere quello che c'è dietro per cui essendo che abbiamo un palazzo flat e non 3d dobbiamo ingannare l'occhio simulando l'interno del palazzo per cui torno sulla composizione 1 sul livello palazzo 1 elimino l'effetto di esplosione torno sulla composizione frantumazione e dalla finestra di progetto inserisco la composizione 1 sotto la nostra clip video inserisco un effetto tinta dove con il campionatore del bianco prendo un colore scuro della luna o del cielo non importa ed ho una quantità da tingere attorno all'ottanta per cento così da dare l'illusione che una volta che i frammenti si sono staccati tipo in tonaco la struttura interna del palazzo si è ancora integra in ombra sul livello di regolazione applichiamo un effetto dell'optical globe di red giant dove imposto un amount a 2 e un fall off al 66 per cento infine un radiate a 22 e porto il centro in mezzo al monitor a questo punto dobbiamo truccare un po di più la scena e per farlo utilizzo un video stock con della polvere che inserisco sotto il livello di regolazione lo porto in modalità scolora perché hanno uno sfondo nero lo trasformo in 3d e lo ridimensiono a piacere inclinandolo come la prospettiva del palazzo inserisco un effetto curve per farlo corrispondere un po meglio alla scena e porto un'opacità attorno all 85 per cento ora lo dilatiamo attorno al 400 per cento e attivo la fusione fotogrammi a questo punto lo duplico quattro volte posizionandoli in vari punti del palazzo e distribuendoli nell'arco della durata della clip ne metto un paio anche sul lato a fianco posizionandole inclinandole e ritardandole nel tempo e infine aggiungo un altro video con del fumo o nebbia sempre preso sul web dove gli aggiungo un effetto curve per dargli una corrispondenza di colore un po più coerente alla scena porto la sua opacità attorno al 50 per cento e lo dilato per tutta la durata della composizione dopodiché attivo anche qui la fusione fotogrammi ora come ultimo passaggio vediamo un trucchetto per rendere il numero di frammenti maggiore con velocità diverse in modo da non avere nell'immediato la facciata del palazzo che si frantuma ma prima solo i frammenti che volano via e poi successivamente il muro che viene bucato e per farlo duplichiamo la nostra clip video altre due volte e su quella in cima lasciamo una dilatazione al 250 per cento su quella sotto impostiamo un 275 per cento e gli applichiamo un effetto curve per scurire un po quei frammenti avere una variazione di luce e sulla terza copia impostiamo una dilatazione al 300 per cento vediamo un'anteprima bene ora potremmo aggiungere un nuovo livello di regolazione sulla quale applicare il plugin gratuito quick chromatic aberration e imposto una posizione a 2,5 poi con il livello selezionato prendo lo strumento ellisse tengo premuto control e faccio doppio clic per applicare una maschera ovale delle dimensioni della composizione e dalle sue proprietà la inverto imposto una sfumatura 200 e un'espansione a meno 185 così se attiviamo e disattiviamo l'effetto avremo dato ai margini della scena una leggera separazione dei canali rgb che non ci sta per niente male e direi di terminare aggiungendo una videocamera quindi precomponiamo tutti i livelli che rinominiamo finale spostiamo gli attributi e diamo ok lo trasformiamo in 3d aggiungiamo una videocamera da 35 mm poi un oggetto null che rinominiamo controller camera lo trasformiamo in 3d e con il pic whip della camera lo colleghiamo quest'ultimo apriamo la sua posizione e ora ci portiamo a 30 secondi e accendiamo l'orologio poi torna a tempo zero e mi avvicino leggermente per dare giusto un lieve movimento aggiungiamo una traccia audio per dare un po di emotività e qualche effetto sonoro e mandiamo in riproduzione e avremo creato la nostra scena di compositing catastrofica bidimensionale con una fotografia davvero particolare che assomiglia un po a un cartone animato bene ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un like per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.